A cinque mesi dalle elezioni che hanno cambiato la guida amministrativa nel comune di Ancona, i cittadini chiedono a sindaco ed assessori di dare seguito all'azione annunciata in campagna elettorale e in parte avviata in questa prima fase amministrativa relativa al degrado della città. Una città che, clochard a parte, presenta in diverse zone situazioni che certo non qualificano un centro che avrebbe la vocazione con mare, porto e bellezze artistico e naturali per rilanciarsi anche in ambito turistico. L'assessore al verde pubblico del comune dorico Daniele Berardinelli parla delle prime linee guida che a partire da questi giorni stanno muovendo quella che i nuovi amministratori hanno definito la rinascita della città. Sì, in realtà io come assessore, come i miei colleghi, siamo stati insediati il 19 di giugno, perciò insomma sono passati pochi mesi, con il mese di agosto in mezzo, abbiamo già fatto alcune cose importanti, per esempio abbiamo perfezionato quello che è il contratto che andrà a legare un architetto che sarà proprio il consulente per quello che riguarda il decoro urbano e stiamo già lavorando con lui per capire quelli che possono essere i primi passi da fare, sicuramente inizieremo dal centro di Ancona, dal Corso Garibaldi, Piazza della Repubblica e abbiamo già ipotizzato una serie di iniziative anche nel resto della città perché pensiamo che anche dal punto di vista proprio dell'impatto dei turisti, oltre che dei cittadini di Ancona, sia importante lavorare nel migliorare la situazione del decoro della città. I primissimi passaggi subito dopo l'estate? Allora il primissimo passaggio è stato quello di definire proprio con questo consulente quello che sarà il nuovo volto per esempio di Piazza della Repubblica, anche se sarà un'iniziativa che avverrà per step perché inizieremo prima per esempio con lo spostamento di Igenio che serviva per il conferimento dei rifiuti proprio davanti alle Muse, stiamo lavorando con gli operatori economici per spostare i taxi da davanti sempre alle Muse e abbiamo già ipotizzato un concorso di idee per la sistemazione di Corso Garibaldi proprio per avere la collaborazione di professionisti da tutta Italia e non solo per cercare di trovare una soluzione che possa essere all'altezza di un capoluogo di regione. Toglieremo quelle che sono le fioriere che sono ormai disastrate e cercheremo di mettere in funzione alcune fontane perché anche quello secondo noi dà un senso di degrado che va sicuramente cambiato non solo nel centro di Ancona ma anche nelle periferie.